1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poi abbiamo fatto il giro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poi abbiamo fatto la base 2 che è la base laterale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la base 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e la base 3 che è il relogio, passo, passo, tocco, 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 indietro, indietro, chiudo, ok, spero a chi invece di misomba già ne masticava di aver dato qualche piccolo dettaglio per colire un pochettino, soprattutto ci avete guardato.